Apple tentò di conquistare il mondo dell'abbigliamento. Infatti nel 1986 Apple decise di lanciarsi nel mondo dell'abbigliamento. Al tempo John Shulley era l'amministratore delegato di Apple e decise di lanciare una linea di abbigliamento con il logo Apple. Il brand era caratterizzato dai colori accesi di quel tempo. Il loro obiettivo principale era quello di rifornire surfisti, non solo con tavole da surf da 1100 dollari ma anche con tutto l'abbigliamento dedicato. Lo slogan era dopo una giornata di surf la maglietta Apple è quello che ci vuole, direi abbastanza terribile. L'abbigliamento però non ebbe molto successo e infatti fu cessata la produzione pochi anni dopo.